Ecco, è partita la registrazione Buonanotte Salve a tutti i ragazzi, un canale YouTube Un canale YouTube È vero Sono le mie armi Sì, è di chi è Sì No No, fermo Possiamo parlarne No, non ne parleremo mai Ma troppo con hub Ma perché mi lagga il cecchino? Non ce la fai a salire No No No, sono vivo, ok Mi sembrava di essere morto da quel salto di 24 km orari Va bene, va bene Mi ne vado Sì, sono vivo Io sto recando Vieni Dico, è il tuo amico Io No, no, no Il pacco Amazon era per me il pacco Amazon No, è per me No Perché lo ricevevano? No, ma qua è impossibile Facciamo il team No, 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 qua è impossibile Qua è possibile Qua è impossibile È impossibile È impossibile Ti prenderemo le legnate Ma fermi Voi Obedite i miei No Averete registrato Di che sarei il Dai, fermo, fermo Vabbè Brava Cosa? Ci vedo delle spine Io sono salito Top, top, top Ma hai chiuso con delle spine Non l'ho cercata La gamba la tocca Ah No Grazie Arrivederci Arrivederci No, dopo C'è Guardiate pela No Tutto lo scuolo perchè questa è questa non c'è anche a polonia ahahah che è morto prendiamo tutte le armi però per me non accompagnano quelle del boss perchè? perchè è la versione del boss ah ok press press scarica giocchi e crassati eh vabbè poi me lo contro eh cheat quell'anno fa anzi cos'è caduto? ma io sono io eh raga perchè vedo un fucile a pompa sulla catena? si pure io l'ho visto mi sei caduto bradio perchè ridi questo tanto? eh? ma io sono ridi c'è ridi questo tanto io non lo uso no e c'è ridi cosa fanno no bam vabbè 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 le spine mi hanno preso ma non voglio no vabbè no no facciamo tim claudio tim prendiamo le pistole e l'ammazziamo prendi le pistole che fai doveva uscire la seconda non la prima come faccio da ammazzarti di questo c'è la catena ahah scusa quella no quella no grazie vai mi hai liberato ginson bale no ginson bale per me no è per me è per me ma sono morto no no sono morto eh raga sta ragando da noi dai è sopravvissuto papà si è vissuto questa mappa che cosa era boh è ragno verso parata mi sono simpatico si claudio si moltissimo non lo voglio io sono morto no sono morto per davvero ti ho schifato i colpi mi sono morto è vero che poi sto arreccando poi lo potrelo vedere nel video aiuto 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 no se ti vai devi batterti per una volta ma perchè sempre tu devi vincere le oh io non so giocare a corpo a corpo va male io non so giocare corpo a corpo allora vedi è facile giocherci corpo a corpo lo prendi a pugni pensa che quello l'ho preso per la tua patata oh sono volato ciao ma lei come gli ho dato colpo guarda com'è imposta il mio personaggio facciamo team dai raga no raga raga va bene team levati levati ti ho detto levati come guarda ha spaccata ha spaccata ha spaccata ha spaccata raga muori mali tre quattro cinque vieni sotto se hai il coraggio ok no team prima vai fanno con lui no 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 stavo scherzando stavo scherzando te lo giuro stavo scherzando stavo scherzando stavo scherzando stavo scherzando guarda la mia gamba com'è bella ahahah alleluia e vieni qua no non cado l'arma prova a prenderla e ti arrivo ah vuoi che la prendo una devi prenderne per forza una per ammazzarmi no non c'è bisogno ti do la mia mano ma non la vuoi perchè cadono tutte le a destra allora io rimango qua qua non c'è nessuna posso rimanere così non c'è nessun problema ma ragazzi c'è un piccolo problema se continuiamo così dobbiamo stare così c'è la fatica però c'è una gara che prende l'arma per primo no poi mi metto qua e quando cado cado salta e poi vai subito con A boh no no dai che ti prendevo non cadono armi qua non cadono armi qua non cadono armi ma guarda io non so che dire chiamate il 9-1-1 per 9-1-1 per 9-1-1 no per regalare un euro basta mi ha sediato mi putto con la pirouette il pensiero è un po' città oh no team 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 o team ho capito ho capito capito team ma allora più team ok ciao ecco boh cosa come ci è arrivato là come è molto arrivare là sotto là con S guarda ci posso arrivare anch'io guarda guarda non è sg la propria somma un po' un po' bellissima con questa è una posta che spari un colpo e distruggi tutto in più dalle mappe di ghiaccio che prende un'arma ti prego vai di la vai di la tu l'hai presa allora sai che faccio io dove ok io ho vinto team 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 ho detto team senti se non facciamo team faccio team mio capito no sto scherzando come ho preso come l'ho preso a bali non l'hai preso il mapposto solo facciamo team mio ai bali vieni qua bellezza di papà oh fermi 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 fermo le due è più un'arma prova te che fanno le armi no no perchè si butta team io e claudio team team ammazziamo con la merda bene oh è sempre valerio questo sto aspettando che tipo mi viene fuori l'arma per non usarla contro gabriel gabriel no ma ha preso il razzo pure insieme a lui facciamo io team mio ai bali e che arriva prima sopra no io no io sono morto raga ma che aiuto raga sono morto sei vivo ciao raga no no ora sei morto lo dice anche il gioco no perchè se non mi vuole dovrebbe tipo succedere oh no no che era eh dove sono scivolato cosa web che sei messo in posa minchia dai scusatemi no dove sono io no mi so forte sempre col rosto anch'io fermo wow che cosa ha fatto secondo quanto è tutta la arma institutional non hanno Sergio ma ho capito non 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 sali che fai ciao ciao fermi fermiti fermiti no yeee però stavo prendendo l'arma col braccio tipo Adele ritotti qui in posto ti faccio guarda che cojone No, sono morto io perché sono andato a prendere l'arma nell'esplosione No, no, stiamo scherzando What the fuck? Come? Facciamole cosa, prendiamo arma E ti ammattiamo No, ma perché? Mi ha tirato uno schiaffo Mamma è un giugno in culo Sì, va a prendere l'arma, vai 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 No, 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 vabbè Marica, devi prendere i giochi quelli belli Non prendere gli altri giochi Non prendere i giochi privati No, questo E fai un giugno Mi prendi uno e fai questo perché non so Vieni, è un re C'è l'univo Non più Come l'hai preso? Voi siete i passi giù Fermi, raga, qua escono i cosi Menti e serpenti non arrivano, i serpenti I serpenti C'è un'arma, c'è un'arma Fermo Serpenti Picchiata lui, picchiata lui, c'è un'arma Eh, serpenti No, ma che cosa Hai vinto, Mari Facciamo un tipo di serpente Facciamo una cosa, facciamo Raga, ma perché nascono i brutti posti ogni volta? Ogni volta Ma, il progetto è mio No, io dormo in mano e non sono morto, ve lo giuro Eh, non è il progetto Oh, ma perché io dormo in mano e sono morto? Perché t'ho sparato Oh, vai, ti sono a farmi già Ho capito dove fare il rambo Dai, finisci l'arma Dai, finisci l'arma Vai, vai Dai, finisci l'arma Ma che Dai, cazzo Cos'è che l'air, no? Dai Dai, raga, fermi No, ci metti uno in lasso C'è Non ci provare No, vai L'arma ha metralizzato Dai, io sono fregato Vai, sali Ti sei fregato Ti ho fatto fare bene, Vali Ora ti sei fatto impiegare Dai, gira verso la parte del sole Comunque Vedete che gira verso l'altra? Non fa più Cazzo, lo devo andare Mieee Gabby, comunque non mi la ricordo Mori, Gabby Mori, Gabby Dite? Sì Dite? Sì Perché l'ha detto? Dite Guardi Come devo dire un segreto, mi devo dire Non posso non vuole capire Sapete che... Ma niente Come victory? Ti ho buttato nel laser Faffanculo Fermi dai Un secondo di pace Non possiamo farlo Vabbè, ciò che mi metto qua sto No, non lo faccio mai più L'ho ammazzato No, il laser mi ha beccato No, il laser mi ha beccato No, non ti ha beccato il laser No, no, il laser mi ha beccato Col piedino Il piedino Aiuto Che cosa? Ti do la mia arma, Vali Prendilo Sì, ora ti va a beccare, Vali No, no, no Ah, no, no Ti dico, io sono morto Eh, sì Sì Io sono morto Sei vivo Sei vivo Certo, che ci fanno? Dai, perché ci fanno Ansila Che è successo? Raga, chi è successo? Chi è vivo ancora? Ma perché non finisci? Ammazzati, ammazzati, Vali Vali Ammazzati Vali No, perché il laser... Io sono morto, eh Vali, ammazzati, Vali Vali Vali, non capisco Perché continua? Ma si sta muovendo Sì Vali Vali Come hai vinto tu? Boh Ma c'è Vali Sì Sì c'è Tim, Tim No, non riesco alle greate così però Aaaaa E io mi sto qua giù Ma sti greate non tolgono nulla Tipo io me ne sono beccati Ho fatto niente Wow, ho salto Ho sciso Ehm Aaaaa Aaaaa Mamma Mamma Eno Hai trappossato il muro Quella là la prendo io No, vaga C'è una leggenda Chi prenderà il male è maledetto Morirà qualche tipo un minuto dopo Un minuto no un secondo Tipo Non dici una leggenda Non lo dico io Vali, rimane il labo Chi prenderà quella lala e morirà un minuto dopo ve lo giuro mi diceva una leggenda della spada cosa? che ti ho detto? non porta sfiga sono stato io ma dove ho la lag? qua ho gli 60 fps da mesi ma mi ammazzo così facciamo prima no no un manzo qua non c'è laser gatto team team what up e perchè mi picchi? non ci picchiamo più prendila più prendila più wait cosa? aspetta cosa? no no non riesco a giocare a me mi ha fatto volare non manca team vali team aspettate no no vali vali team team no gliel'ho detto io è il mio amico eh 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 ora non più dai sembra che sono io nooo vai li ho distratto i è quello che sto ancora registrando raga i pacchi di amazon i pacchi di amazon no amazon è mio ho ordinato i pacchi mi ho ordinato un gioco vedo c'è la cola caldo che lo vuole ciao raga no 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 amazon 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 ti prego no c'è una cosa che non ti ho mai detto no la fiamma è dietro vero si io non tu ma cosa 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 che cura che è successo? ma perchè ti metto volare io questa cosa che cura questa è la mezza smetti di volare no 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 che cosa praticamente in mente ti ho mazzato tipo c'è quello che ti fosse è girato verso di me la sai che non c***o e basta ammazziamoci ci dobbiamo ammazziamoci 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 no ho la cola caldo ho la cola caldo no fermi la voglio gliela cola caldo sicuramente è quello che peggio sarà quello che diventa la cola caldo skills ma va fanculo scusate è colpa mia se non gioconzo no io io non mi ha preso vengo io vengo io vabbè 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 non fa niente claudio ammazzalo no guarda adesso salto ciao ammazzalo i treni avranno domineranno stai